Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali Let's get it boys Poi trova la full hd malissimo, partita col motion blur, che ne pensi se ti ammazzo rival? Visto, peccati te andavo? Sto arrivando da voi Vita, riterrlo ora, ragazzi Vita, giochintoro No, regge, ero andato un attimo a farmare Marzolo, provo in gaming full hd Io lo sto facendo adesso Oh Per quale ho to per vomitare? Full hd gang Ho una merda, Fran Slocato Ciro Ma che con malastanza non è mai stata quella che piccola Arigato Capitan Power Oddio che lag è? Ciro ce l'ho davanti? Cosa gli dico? E Gio, dove? Qua all'angolo della casa di fronte a me Ho fatto un gacibas L'altra è qui Ma che cazzo sto facendo? Porto uno Ma quanto va veloce la sensibilità? Eh, hai capito? Perché prima stavo triggerando? Ma è quello che ti dicevo prima Perché mi stavo triggerando Mentre giocavo Ora capisci i miei problemi? No, frate No, 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 no Reverse, please Eh, non puoi Reverse, please, guys Marzo, smettieni di piangere Vado in cima al curso Se mi sniper o no mi sniper Ho preso io il rift Ma ce ne sono 8000 Dov'è? Non vedo il rift Non c'è solo quello? Là, è una scimmia L'ha preso C'è solo quello? Non ce ne sono quello Marzo Ma ce ne sono due Sì, sì, certo Sono dentro alle case lì, ragazzi Sì, sì, sì Prendi pure il ping, Marzo M, tasto destro M Devi aprire la mappa Eh, ma non me lo fa A meno che non A me non fa Devi aprire la mappa Ah, no, quello è mio Il viola è lì Lo metto qua, dai No, no Ah, perché non è Ok, no Perché avevo visto il viola Invece era il tuo, il viola Ho messo un colpo Con la pola che ha detto Ok, o mi sa Cosa pensa ai miei compagni di me Che sia la persona Sì, la persona Sì, la persona Io che cacata Sì, la destra, Marzo Lì, bravo 23, 23 23, 23, 23 No, ragazzi Pizzo, lascia un'ina cosa, però Sì, 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 vai, vai Non colpi di R, ve lo dico Vabbè, uno è spio Colpi di R, dai, Ciro Colpi di R, non li ho presi io 99, vanno bene, vanno bene Vanno bene, vanno bene Vanno bene, tieni, tieni Di me Allora, ci vado di Lito, tieni No, no, è uguale, è uguale Ok Ne ho 69, ora 69, 69 Ma che cazzo è stato dicendo? C'è qualcosa che posso prendere Al posto di una pistola? Prendo l'arco Oh, c'è un palloncino volante Sì Ma è solo un pallone? No, gli amici invece hanno usato il coso No, ragazzi, c'è un po' di anche No, no, no Pronto, c'è la loli Ci pensa Robin Power Madonna, ragazzi, che shot Raga, ci credete che non riusciva a capire dove era la palla? Marzo, qua ci sono le band E lì c'è una pozzata 50 No, mi se la lascio, Martore Tieni Ok, ragazzi, c'è No joke Ora capisci il mio struggle di prima, Marzo? No, no, ma i brutti Non riesco a mirare uno Mi sembra che corra pure più lento Sì, quello è vero Cosa, dove sei? Vai Vieni in fila, andiamo dentro di me Madonna è orribile Si va a palarco, si va a palarco, si va a palarco Che cazzo di cosa Cosa fai con le mani? Ma quella Oh, what the fuck is going on here? Mi trai The fuck? Mi pare di essere una da season 4 Oh, destra, destra, destra T'ho morto Oh, guarda lì, ci sta trainando Dov'è? Marta, Marta, ovviamente No, trollato, trollato Mi sono uscito Che c'è il Martone? Arrivo Marta No, sono da solo, eh È caduto da solo Ne vediamo, Giron? È un cusco Ragazzi, non ci sto capendo niente Mi sta facendo male il cuore, veramente Aspetta, vieni C'ho il pad, c'ho il pad, vieni Arrivo Ma io veramente devo giocare così? È per quello che ti dicevo Che prima non riuscivo a giocare Tu dicevi No, frate, è orrendo Da dietro mi hanno sparato C'è un altro team dietro di noi Spara la launchpad Spara la launchpad Spaccala Guarda, su, su, su Sud, 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 arrivanti Ma Ok Mandaggio si è fermato Down, uno Cioè, è 110, uno 110 all'altro Vrega, ma è League of Legends Cioè, c'è, c'è, c'è uno degli ashi Pam Uno è loncato, eh Pam Madonna se l'abbiamo scopato Posso prendere quei mini? Che non ho cura Tira pure il rift pure Ci sono altri mini Altri mini li prendo volentieri Hai preso l'arco Dovresti fare gottili arena 2 lama C'è gente qua in fondo Se venite Ok glielo andiamo dentro C'è gente alla tua destra Te l'ho pingati prima Sono nel tunnel Ho power Ma quanto va lento Posso ti arco Devi sparare all'orso Oh No Io spero che dopo un po' Ti abitui Perché se no Ok quelli da dietro ora Non mi sparaggiare L'abbiamo preso Sono incastrato Sono incastrato Oh Regà Mi state abbaccati a me Sicuro che c'era qualcuno Alla nave Ma l'hai visti? Sì 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 hanno buttato Sì hanno buttato il cannon Dove sono buttati? Uno è sotto di me Regà ma c'è Ma c'è questo albero Sì è un cus Aspetta aspetta Uno mi ha volato in testa No questo è per il monte Aspetta questo è per il monte Dai Lascio volare Facciamo la cieli Però la nave riga spara Guarda vieni da me Provo Perché vengo io da te Guarda la nave oh Giro occhio Alla tua destra C'è il cecchino Oh mi ha cecchilato anche a me Sto pazzo Ah un botte sicuro Dov'è quella nave Scusatemi Di sotto Dove stanno i cannon Sta salendo 100 Ok La seance non va toccata Sì In verità sì Ti ho me Là c'è della roba da prendere In verità sì Dovresti toccarla A me non è un cazzo come prima Cosa non è un cazzo come prima? Eh la La sensibilità Te l'ho detto Te l'ho spiegato prima Quando mi hai detto Eh sta cosa dovresti migliorare Ti ho fatto merzo È normale che non c'è il tracking come prima Perché la sensibilità diventa automaticamente più veloce What merza Cos'è successo? Cos'è successo? Mi sono sparato con il cannone Ciro Io non ho Eh è tutto per morire Ma c'è pizza Ok Che cazzo è che mi sto sparando? Di 85 di meno Io l'ho visto Mi è molto da dormire di fianco a me Scusami che non faccio più il mazzo Con la musica a mille Mi dispiace conmico Terrà una comportazione adeguata Ragazzi ma io c'ho veramente delle malattie C'hai la pazzia? No frate C'è L'ultimo di arco No no io sto facendo di arco Qua davanti a me Sì sì Non è l'ultimo No raga La mia scala Ma chi è questo? Ah no non era l'ultimo C'hai ragione No ma non possono accettare questa cosa Dai mi rifiuto Mi rifiuto Mi rifiuto categorica a me O fanno qualcosa Grazie Jack O fanno qualcosa che più o meno cambiano E comunque c'è Non è così di merda La serie Cinoni O se no non è possibile Ottimo Zonone Ah la sensibilità Vabbè Quello è un discorso di risoluzione Il fatto è la lentezza del gioco E tu non hai ancora provato il fatto di essere clausterato in un box Ciao a tutti Grazie a tutti.